buona giornata a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Roran17 e qui dietro di me ci sono AME sto soffrando Taylor c'è tutto il bgmine capo Roby infatti ho paura perché dietro di me non ho paura io Federico nel mentre voi io Federico nel mentre voi ciao comunque oggi volevamo una uè e la gnocca no dai volevamo inaugurare una nuova serie su FIFA tipo una specie di torneo a eliminazione diretta aiuto a me li ho cagionati eh cosa vabbè allora è una specie è un torneo del bgmine cap è un torneo del nostro canale e sarà a eliminazione diretta si partirà dai quarti di finale fantasy è figo si partirà dai quarti di finale saremo io il doppio di me e ora non mi vedete più saremo io ragazzi ragazzi non mi vedete una cosa aspetta ah ma già mica sto per dire è sexy allora saremo ragazzi vedete tipo una schermata con tutte le squadre e iniziamo su torneo il primo incontro sarà tra me e Robby45 quindi ho messo il 2% ok e adesso inizierà la partita bella allora io sceglierò il Chelsea e lui sceglierà il Napoli ovviamente ok raga le formazioni sono queste e adesso iniziamo questo benetto torneo da questo preciso momento raga inizia la partita voglio urlare mi sei qua ragazzo iniziate la partita Oscar che fei la legge calmarlo cc dai berri non c'è la che da paura di percorso io ti ho più paura tantissimo paura acazzi m m riempio ma è vero i tuoi doveva dire che non mamma mia che è mancato i tuoi in mamma mia mamma mia mamma mia il passato mappone troppo di la mi scar oscar zitto no! non li concentri zitto Fede basta non si concentri attenzione Oscar attenzione da fuori controlla grande 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 bello ma dai no è una tattica no mica vai bello davvero guardabile che son tifo Roma magica che son tifo Roma ma questo è fallo però eh è tattica aiutare il calcolato è vero io so io provo il tiro eh no 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 mamma mia no 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 per il momento raga è il tiro più pericoloso della sua nella scopera della storia questa è la natura no 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 io non so perchè c'è la scelta c'era l'ascensione tutta pagata c'era l'ascensione tutta pagata c'era l'ascensione tutta pagata la attenzione al massimo rega che da parte di popolo mi piace con l'aroma perciò mano con l'aroma del port la ascolta l'iscrizione della Roma con ha preso verde per la medica la roma non è vero la nuova è un intervosto nel senso non ha fatto che la farai ma non è più da questa parte ma non è più da questa parte e se mi va a gioco la roma eeeh 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 E' un po' così che mi ha fatto fuori Come sta? Ricordiamo il giro Ricordiamo il giro Ho detto perchè ti sei girato Nooo Non si crede Mi piace i pomodori E' così merda Vai vai in Riparte Robi 45 Fai una finta almeno Andate a vedere la teca Oddio raga 1 a 0 Ha fatto un gol di merda OLEE 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 Perché non prende nemmeno Bella Bella No dai l'ultimo ho tolto la palla Sì non lo sapevi Ma anche qua No di solito qua non fa No raga se mi segna Certe volte si e certe volte no E' forte con me Forse ti ho fatto caso Oh Insigne se segnava il più basso Raga io mi vergogno di più quando sono in pizzeria che quando gioco Vai quadrado Quando vado in mezzo alla strada Vai in mezzo quadrado No No Io facevo un gol di interno Ho fatto un impatto All that's left is a window too, so come and get it Raga abbiamo fatto qualche sostituzione, adesso si fa tutto per tutto per segnale Ti segna un po' di capire di certo in pratica In pratica, poi c'è ancora il tempo e di segnare Ho messo il bagatolo qua Ma fischio Non riesco più a giocare, che scuro il mondo C'è un fischio Oh 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 Allora anch'io sono più alto di rosa Oh Vabbè vabbè raga non sono ancora tranquillo Non sono ancora tranquillo Esatto Arrivao a 0 Zitti raga zitti Adesso è rivolto a 1 e non è ancora tranquillo Ma raga però giuro a 1 e non è un risultato molto tranquillo Ma giuro che molo blocco Che cazzo fa madonna Mossa Tira la distanza Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata La svegli il telefono Uo spieghere Sai come fa Giacalcash Infatti Che pensa ci vedi Prova andare Ma perché hai visto Venga Ma il sensorista cosa Aspetta Ma Luca guarda che hai partito l'attacco Oh cazzo Vabbè Vabbè No in realtà era per le risorse Perché erano super ultimi Ma dove hai circondato la casa di gemme Ma perché No No ma perché Raga 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 Ma perché raga Ma perché Luca ha trovato un villaggio Praticamente c'era una cassa di gemme E ci ha messo le mure attorno Posso sostituire visto che abbiamo Vale sostituisci Raga io fin quando non faccio il 3 a 1 non sono tranquillo Perché lui mi fa paura L'ultima L'ultima arma Ma Quasi 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 Ha messo Alla No non c'è Alla Non è aggiornato No raga se mi sei Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è No non c'è No non c'è mi pare No stai finito 2-1-2-1 1-2-1 2-1-2 Tim Fede 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 oh senti è bella perchè è lunga raga stiamo in tempi supplementari raga l'americo piace la minchia raga l'americo pro c'è la minchia raga l'americo pro c'è la minchia ma che schifo nooo traumatizzato stanno vedendo tutto a destra e in basso avrà visto il pisano di bravo uff attenzione è un testa a testa raga l'americo pro città a parte che c'è il giudizio anche io c'è il giudizio comincia il secondo tempo non è chiamato il cuore a mille cazzo poi se andiamo ai ricordi soprattutto nooo che culo che ho non ci credo che culo che ho nooo raga questo significa col sbagliato e col subito raga questa è la legge di fifa col sbagliato e col subito come sono? ecco ma dai non mi faccio l'azione raga però raga comunque i più testi sono io perchè so che ci saranno ancora che dopo di questo ci sarà ancora una partita ok raga primo rigore eeeh e lo è para no 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 dai non truccate ho dato lo sbaglio freddissimo scusa scusa per me vince fede per me vince fede per me vince fede e' la parabola e' la seconda e' cosi' no che c'è ma quella la sbagli ma non so sono uccidenti ma io ci sono accettate un'appart accendo un agolo e non ha potuto fare anything e' la conseguenza e' la sequestra ah ce l'ha fatto un po' e' la sequestra Ragazzicci Ragazzicci E va avanti E va avanti E va avanti Signori da avanti Ma vieni Ah ora tocca a me Perfetto 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 Perfetto